salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai già avete sentito avrete già visto su altri canali youtube ormai è quasi imminente il lancio di un nuovo prodotto di casa parot questo drone che tutti noi speriamo sia un drone sotto i 250 grammi non è detto che lo sia perché comunque non è detto che a paro ti interessa entrare in questa fascia di mercato anche se io spero di sì perché avere un drone sotto i 249 grammi perché comunque avere un'altra alternativa a quello che è il re incontrastato per quanto riguarda i droni in generale ma soprattutto nel 249 grammi veramente adesso è incontrastato cioè dj e sarebbe davvero interessante poi un marchio europeo quindi non cinese sarebbe ancora più interessante e poi ragazzi comunque se ci pensiamo circa tre anni fa quando fu lanciato il paro tanafi quel drone di casa parot che fece molto clamore perché comunque un drone molto particolare con caratteristiche uniche soprattutto per l'epoca perché comunque la fotocamera che si inclinava verso l'alto quindi un'inclinazione di 90 gradi anche verso l'alto uno zoom ottico una silenziosità incredibile una batteria che si cercava con qualsiasi alimentatore attaccandolo al pc cioè veramente aveva tante cose innovative e poi il peso perché quel drone ragazzi pesa comunque poco più di 300 grammi e fare un drone circa tre anni fa con determinate caratteristiche pesare solo poco più di 300 grammi era già tanta tanta roba quindi penso che parot sia tranquillamente in grado adesso di con la tecnologia avanzata di tutti questi anni sia sicuramente in grado di produrre un drone sotto i 250 grammi con le stesse caratteristiche che aveva il paro tanafi di allora quindi un drone che sarebbe davvero secondo me incredibile però bisogna vedere se veramente interessa questo a paro perché comunque come sapete circa un anno fa paro ti dichiarò che non interessava più il mondo consumer quindi si dedicava solo a determinate tipologie di droni per lavoro militari quindi droni per l'agricoltura tutte queste cose ma non droni consumer speriamo che ci si abbia ripensato che adesso avendo visto la possibilità di fare un drone a 250 grammi di entrare in questo mercato che sicuramente è la fascia di drone che è più appetibile a chiunque e sicuramente è quella che ha più possibilità di numero di vendita di pezzi e entrare in quella fascia secondo me vuol dire vendere tanti tanti pezzi se fai un prodotto valido ad un prezzo competitivo ovviamente comunque parot a livello di prezzi ha sempre diciamo salassato bene i suoi prodotti forse anche di più di dgi per quello che ci veniva dato quindi speriamo che sia così lo vedremo presto comunque perché la presentazione per il 30 giugno quindi non manca tantissimo dovremmo attendere ancora un po però dalle indiscrezioni da quello che si legge comunque in quello che è la presentazione attuale sarà un drone che fa anche fotogrammetria tutte queste cose che a questo punto ci fanno pensare a un drone più per uso diciamo di lavoro speriamo che non sia così speriamo che sia un drone a 360 gradi che sia sia per l'utilizzo di lavoro ma anche per l'utilizzo ricreativo quindi un drone un po per tutti se invece sarà solo un drone per lavoro sicuramente anche il prezzo sarà veramente molto molto alto quindi ragazzi io spero davvero che sia così perché comunque io paro tanafi l'ho portato tantissimo sul canale se andate a guardare non so quanti video caricato con paro tanafi tra voli in varie location bellissime e anche proprio test e prove perché comunque un drone che è cresciuto tantissimo con gli aggiornamenti quindi tutto questo mi ha portato a utilizzarlo tanto e ad avere tantissima passione per questo drone che poi ovviamente è andata a finire perché è arrivato tanta tecnologia più nuova più innovativa e ovviamente lui è rimasto un pochino indietro però attraversato un periodo della mia vita da dronista che mi è piaciuto davvero tanto utilizzarlo quindi ragazzi in attesa che arrivi il 30 giugno con la presentazione ufficiale lasciatemi nei commenti cosa ne pensate voi di questo nuovo drone di casa parot come pensate che sia come vorreste che sia quindi se questo video è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosi tante prime stampe 3d voline fpv quindi tantissime cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale teniamo offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi scrivetevi a questo canale youtube per dire anche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao